Mr. Enrico Sanso, naturalmente siamo alla vigilia, Taranto che arriva pronto. Abbiamo un gruppo nuovo composto da giocatori che sono arrivati quest'anno, è rimasto solo qualcuno dell'anno scorso e quindi devo dire che questo scivolamento dell'inizio del campionato ci ha permesso di rendere coeso questo gruppo di ragazzi, molti dei quali nuovi. E' vero che ci sono delle defezioni perché ci sono dei giocatori squalificati, penso a Ferrara e la Monica, due giocatori molto importanti. A qualcun altro ha avuto qualche problemino in passato e quindi sta recuperando, però è a disposizione e quindi senz'altro domani avremo una squadra che è competitiva e che farà la sua partita, non ci sono problemi. Quest'anno non c'è stata la Coppa Italia, si arriva subito in campo e si arriva subito con i tifosi Tarantini che hanno esaurito tutti i biglietti disponibili per Monopoli. E questo ci fa molto piacere perché sentivamo la mancanza. Nel precampionato solo in un'occasione di un amichevole è venuto un gruppo di tifosi, peraltro ha apprezzato anche l'impegno che ci ha messo tutta la squadra in campo in quell'occasione. e avevamo bisogno, finalmente avremo non tutti ma almeno un bel gruppo di tifosi che domani verranno al seguito e che senz'altro daranno quella carica in più a questi giovani.